che c'è che c'è che noia cosa che noia che noia non vedo che sia il 12 settembre il 12 settembre cos'è il 12 settembre si perché non lo sai cosa c'è il 12 settembre dai non fanno saperlo eh dai 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 il compleanno della mia fidanzata chi? elisabetta canalis ciao elic vai 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 te la canalis vai 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 ma che la canalis dai il 12 settembre ok ricomincia le scuole bambini ciao bambini ma che le scuole nooo dai il 12 settembre lo so lo so guarda che ti cancello da tutti i miei amici di facebook le torri gemelle l'anniversario delle torri gemelle guarda che a scuola ti ci mando a te adesso è il giorno prima storia a te zero eh allora il 12 settembre rincomincia il puma londinese il puma londinese si e cos'è il puma londinese allora hai presenti i comici quando li vedi in televisione si ecco non c'entra niente allora e allora praticamente loro i comici vengono qui provano i loro pezzi ok quindi tu vedi tutto il lavoro del work in progress del 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 cabarettista che figo è spie ed è anche gratis e mi posso esibire anch'io se vuoi si si possono esibire tutti certo che bello che bello e no allora ci vediamo certo e poi si beve e si beve cheers si beve siamo in questo posto nuovo fighissimo the college jams e quindi vi aspetto tutti quanti il 12 settembre alle 8 qui al pub belli carichi con un bel birrozzo e tante risate in italiano e in inglese salute! salute! salute!